Da 50 anni di esperienza a Stilbagno nasce Kamer. Si avvicina l'8 marzo e con esso i bilanci che solitamente coincidono con la celebrazione della festa della donna. Bilanci non particolarmente incoraggianti nel nostro paese, dove è ancora forte il fenomeno del cosiddetto gender gap. E il fatto che nel resto d'Europa la situazione non sia poi così più evoluta rispetto a quanto accade nella penisola, non è poi tanto d'aiuto. Unica eccezione del continente europeo, quella dell'Islanda, capace su scala mondiale di aver colmato il divario di genere interno per il 90,8%. Negli affari di casa nostra si è occupata un'indagine condotta dal centro studi CGL di Sondrio e in ambito di gender gap lavorativo e pensionistico c'è davvero poco di cui compiacersi. Partiamo da un dato di Eurostat. Nel 2021 l'Italia era il penultimo posto nell'UE per l'occupazione femminile con un tasso del 50,7% contro una media europea del 64,7%. Se poi entriamo nel merito dei contratti lavorativi, si scopre che nella quota femminile la formula part-time è al 64% e in quella maschile solo al 32%. Forse per effetto di una visione stereotipata abbiamo già impieghi precostituiti e quindi vengono donne relegate in quei mestieri che vengono chiamati da colletto rosa, che sono retribuiti in maniera inferiore rispetto ad altre professioni che possono essere legate al mondo scientifico piuttosto che finanziario. E quindi la salute, l'educazione e questo va a relegare le donne in quelle situazioni dove si creano già delle differenze di retribuzioni a prescindere. Retribuzioni per le quali si evidenziano ampi divari tra uomini e donne in tutti i paesi dell'Unione Europea con una percentuale del 36,2%. Quella percentuale sale al 43% per l'Italia. E il discorso non cambia in ambito pensionistico. In Italia gli uomini hanno pensioni mediamente superiori del 35,8% e questo per tre ragioni. Le donne lavorano meno anni, meno ore al giorno e vengono pagate meno. Per vedersi garantita la contribuzione pensionabile i lavoratori, ma in particolare le lavoratrici, visti i dati allarmanti appena passati in rassegna, devono raggiungere il paletto del minimale contributivo. Se lavoro nove mesi all'anno, per avere nove mesi di contributi, deve avere una retribuzione pensionabile almeno di 8.860 euro, stando ai parametri del 2023. Quindi quello che noi vediamo sempre più è che deve essere una retribuzione più alta, la donna ha necessità di avere una retribuzione più alta proprio per raggiungere questo minimale contributivo. Quindi quello che noi chiediamo appunto è che il governo si attivi. Anche perché dietro al raggiungimento di una pensione stanno gli anni di lavori effettivi e purtroppo ancora troppe donne sono costrette a lasciarlo, quel lavoro tanto sospirato. Bisogna fare in modo che le donne non debbano rinunciare al lavoro e quindi cosa bisogna fare? Bisogna dare la possibilità alle donne di accedere ai servizi sociali che sono gli asili nido, piuttosto che anche delle cooperative di babysitter. Quando poi ha superato le difficoltà dell'essere mamma succede che in famiglia c'è la persona anziana che va accudita perché comunque le RSA sono costose, ci sono delle lunghe liste d'attesa e anche qui quindi dobbiamo intervenire e dare una maggiore accessibilità ai servizi. Grazie.